Una bussa con proiettile indirizzata al procuratore capo di Caltanissetta, Medeo Bertone, è stata intercettata a Palazzo di Giustizia a Caltanissetta, il magistrato titolare di diverse inchieste dedicate come quella sul cosiddetto sistema montante sulle stragi di Palermo. Sull'episodio ha aperto un'inchiesta alla procura di Catania competente per territorio, così si legge in una nota dell'ANSA. Non mi fermo, vado avanti nel mio lavoro con tutto il mio ufficio, così il procuratore di Caltanissetta, Medeo Bertone, commenta con l'ANSA la notizia della busta ricevuta nel suo ufficio con un proiettile e una lettera e gravi minacce. La busta è stata aperta tre giorni fa, la missiva però sarebbe arrivata almeno un giorno prima nella sua segreteria, ma lui non avrebbe aperto la posta perché in quei giorni impegnato in alcuni interrogatori. Le prime indagini sono state eseguite dalla squadra mobile della questura di Caltanissetta, ma un'inchiesta è stata subito aperta dal procuratore di Catania, Calmeno Zucchero. La tempistica dell'arrivo della lettera si legge sempre nella nota dell'ANSA, mette in correlazione almeno temporale le minacce al PM Bertone, quelle al presidente della commissione regionale antimafia Claudio Fava, che ha ricevuto quattro giorni fa una busta con un proiettile. Numerose sono stati gli attestati di solidarietà arrivati all'indirizzo del procuratore Bertone, per primo di tutti il presidente dell'antimafia Claudio Fava, che scrive al procuratore Amedeo Bertone abbiamo espresso la nostra stima e la nostra solidarietà. E' chiaro che in Sicilia c'è un clima ostile contro chi tocca nervi scoperti del sistema di potere, delle sue collusioni mafiose. Solidarietà al procuratore Bertone, da una serie di esponenti politici, dal ministro dell'interno Malteo Salvini, dal presidente della regione Nello Musumeci, dal presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, dal vicepresidente Ermini.